Ciao a tutti, sono appena arrivato a casa insomma e volevo fare un piccolo video prima di andare a dormire domani poi lo faremo in post partita, bello, bello, insomma mica tanto abbiamo perso abbiamo perso una partita che io non parlo mai degli arbitri ma non ho paura a dire che è stata rubata perché comunque quando ti negano un rigore e il primo gol loro è su fallo difficilmente puoi dire che è una vittoria giusta è una sconfitta causata da un arbitraggio incompetente, è un arbitraggio totalmente sbagliato che purtroppo però in Italia questa cosa la dobbiamo mettercela in testa difficilmente la cambi oh mio Dio potresti anche cambiarla, una cosa che secondo me bisognerebbe valutare soprattutto il presidente dovrebbe valutare quella di smetterla di andare dietro ai big alle big e magari piuttosto che dare retta a loro di porsi un po' come faro delle squadre minori magari così acquisisci un po' di potere, un po' di rispetto e eviti certi scempi in campo però poi ci sono anche tante colpe nostre una finale tanto sentita non puoi fare 45 minuti di nulla cosmico non sono, secondo me non sono tollerabili io al netto del fatto che ringrazio i ragazzi come sempre perché comunque il percorso è quello che conta non vi nego che aver visto 45 minuti di niente in una competizione talmente sentita mi ha lasciato tanto amare in bocca perché il primo tempo era andato bene io poi non so se la forma, la condizione, il tremore, quel palo che ci ha spaventato però quando è stato il bisogno di tirar fuori gli attributi noi li abbiamo tirati fuori e perdi io competizioni che vinci giocando solo 45 minuti francamente non ne conosco le partite durano 90 e non puoi sparire così ripeto spiace, c'è sicuramente qualcosa da imparare anche qua però credo che questa sconfitta rispetto alle altre sia forse meno formativa e più batosta perché l'impressione è davvero che bastava poco bastava poco non mi faccio neanche prendere dallo sconforto e dall'amarezza se devo essere onesto mi è già passata perché comunque ripeto abbiamo fatto grandi cose però dobbiamo dirci anche una cosa con franchezza nel limbo non ci stai o sali o scendi e se questa squadra vuole salire deve migliorare deve migliorare nella rosa perché comunque più vai su più ti servono i giocatori che le partite le vincono da soli mentre noi nel momento siamo una squadra che vince se gira tutto il meccanismo in maniera perfetta ma ti servono i giocatori che la partita la risolvono da soli e ci insegna anche che dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale dal punto di vista proprio dell'interpretazione di certe partite a gara secca su cui noi abbiamo le gambe che ci fanno un po' Giacomo Giacomo come dicevano i vecchi pazienza sarà per la prossima volta io resto davvero grato ai ragazzi per quello che è stato fatto ma non vi nego che ho tanto amare in bocca perché non so neanche non so neanche come approcciarmi perché da un lato davvero da un lato mi rendo conto che 45 minuti di nulla non possono essere ignorati dall'altro però ci sono delle scelte arbitrali che ragazzi mamma mia mamma mia che robe ci ragioneremo e ripeto questo qua è un video a caldo che ci tenevo a farvi e ne parleremo domani ciao